Andate e ritorno Se ci pensate, quando acquistiamo un viaggio online, la prima cosa da fare, prima ancora di digitare la destinazione, è decidere se vogliamo un volo di sola andata o di andata e ritorno. Nel nostro immaginario il viaggio di sola andata è quello che ha il sapore dell'avventura, è quello che molti di noi vorrebbero fare ma che non osano fare, oppure è quella via d'uscita che vorremmo avere quando ne abbiamo le scatole piene della serie Basta, non ne posso più, parto, vado e vado. Invece il viaggio di andata e ritorno è quello che noi conosciamo, è il viaggio, diciamo, è la vacanza, per cui prendo, parto, vado, visito, faccio le foto, ma sempre tenendo in mente la data di ritorno. E questo funziona anche se noi usiamo il viaggio come metafora della vita. Partenza, la nascita. Arrivo, la morte. In mezzo sta appunto il viaggio. Proviamo un attimo, così, per assurdo, a immaginare di fare del nostro viaggio un viaggio di sola andata, un viaggio di quelli, vado, vado, vado. Come cambierebbe la nostra esistenza con il mitico Elisir di lunga vita? E, insomma, potremmo fare un mutuo che dura 350 anni, potremmo fare il giro del mondo, non so, quattro volte, io lo farei in Vespa, potremmo imparare otto lingue, insomma, avremo un sacco di tempo, potremmo fare un sacco di cose e ne avanzeremo ancora. Non avremo paura delle malattie, perché tanto... Insomma, questa prospettiva, questa idea di avere di fronte una vita con una data di scadenza, sicuramente, come dire, ci influenza, perché avete mai veramente riflettuto su quanto la morte, questa, appunto, questa data condiziona, ci condiziona pesantemente? La morte, noi siamo abituati a considerarla come qualcosa che sta al di fuori della nostra vita, ma in realtà ne è parte integrante, proprio perché tutta l'architettura della nostra esistenza si basa proprio su questa data, che per fortuna non ci è dato sapere. Ma è una certezza, è l'unico appuntamento imprescindibile che tutti noi abbiamo, è uguale per tutti. Però è un argomento tabù, è un argomento di cui solitamente non siamo a parlare, un argomento che evitiamo. E questo perché? Perché, beh, innanzitutto non sappiamo per certo cosa e se ci aspetta qualcosa dall'altra parte. E poi anche perché la morte è assoluta. Non puoi fare ricorso. Cioè, non è che puoi metterti a discutere. Con quella, voglio dire, quando è fatta, è fatta. Per certo poi sappiamo anche che fa male. Ci fa paura e fa male, mentre noi siamo programmati per evitare il dolore. Secondo alcune teorie di psicologia sociale, l'uomo è l'unico animale ad essere coscienti di dover morire. Però, come tutti gli animali, ha paura della morte. Di conseguenza, l'unica cosa che può fare per sopportare questa condizione, non restare paralizzato dall'angoscia, è quella di relegare la consapevolezza della finitudine nel suo inconscio. E questo ci crea un senso di, a volte, di paura, di smarrimento. Siamo un po' persi in questa nostra condizione. E ci fa una paura, una paura cane, perché perdere una persona amata, perché c'è anche questo da dire, che la morte, cioè più che la nostra, ci fa paura la morte di una persona amata, dei nostri familiari. E questo cosa significa? Significa non averli più, voglio dire, fisicamente, non poterli abbracciare, non potergli parlare, non sentire più le loro carezze. E questo crea un senso di smarrimento, la perdita, il vuoto. E questo vuoto è proprio questo vuoto che crea quel dolore, che è un dolore che ti toglie l'energia, a volte veramente, per cui fai fatica, puoi andare avanti giorno dopo giorno senza la persona amata. Ma forse è opportuno anche fare una distinzione tra la morte e il lutto. La morte e il lutto sono due parole che vanno, come dire, sono correlate tra di loro, ma che a ben guardare sono distinte perché hanno un soggetto diverso. Poniamo che sono io a morire, beh, in tal caso non parliamo neanche di lutto, nel senso, se sono io, finisce tutto lì. Se invece è un'altra persona a morire, lei muore, io sono il lutto. Quindi sono due concetti, il lutto e la morte, che si accompagnano, ma che sono diversi tra loro. Perché veramente, la morte di per sé non ha niente di spaventoso. Fa parte del naturale ciclo della vita. La morte nei Taraocchi, per esempio, è rappresentata dalla carta numero 13, che nonostante questo aspetto così un po' spaventoso, non ha veramente nulla di negativo, anzi ha proprio una connotazione positiva. e ci indica come a volte sia proprio necessario un cambiamento. E come ogni cambiamento ci obbliga a lasciare andare cose a cui siamo molto legati, ma che non ci servono più per la nostra crescita personale. Quindi ci indica come ad ogni fine corrisponde un nuovo inizio. E vedete, insomma, di per sé proprio, la morte è l'evento più naturale che ci sia. Se vogliamo invece adottare una prospettiva completamente diversa, potremmo anche dire che noi moriamo di un giorno ogni giorno. Eppure questo non ci spaventa. Seneca diceva, duemila anni fa, nelle lettere a Lucilio, puoi indicarmi qualcuno che dia un giusto valore al suo tempo e alla sua giornata, che capisca di morire ogni giorno? Ecco il nostro errore. Vediamo la morte davanti a noi, invece gran parte di essa è già alle nostre spalle. Appartiene alla morte e alla vita passata. In questa prospettiva, ogni giorno ci viene sottratta una piccola parte della vita. Man mano che noi cresciamo, la vita decresce. E' proprio questo il giochino. Noi cresciamo, lei decresce. Io, per esempio, a 50 anni ho già passato l'infanzia, la gioventù, sono già nell'età matura, invece il lutto, il lutto, quello, quello è bastardo. Quello è quello che ci fa veramente male. Il lutto è quello che, che veramente ci, ci morde alle caviglie e che ci fa sentire come se ci mancasse un pezzo. E questo perché? Perché i protagonisti siamo noi. Siamo noi che siamo i diretti interessati, quelli che sono coinvolti in prima persona e quindi che devono far fronte a questa realtà. Nella sua teoria ormai famosa, la psichiatra svizzera Elisabeth Kubler-Ross, lei identifica cinque fasi nella elaborazione del lutto. La Kubler-Ross ha dedicato la vita e gli studi ai malati terminali. E lei ha elaborato appunto queste cinque fasi come tappe obbligatorie per una sana e serena elaborazione del lutto. La negazione o rifiuto, la rabbia, la contrattazione o il patteggiamento, la depressione e infine l'accettazione. Adesso non è certo la sede per analizzare questi punti uno a uno, ma era solo per dire appunto che il lutto è un percorso e queste fasi vanno attraversate tutte. E richiede anche un grosso lavoro di scavo alla propria interiorità. E è un lavoro duro, chi ci è passato lo sa, ma è anche un tipo di analisi che ci dice tanto sulle nostre risorse interiori, la nostra forza, le nostre, appunto, le nostre risorse. Anche perché il lutto a guardare ti colpisce quando meno te lo aspetti. E anche nel caso di malattie, protratte nel tempo, di persone anziane, è come se non fossimo mai pronti ad affrontare la morte e di conseguenza il lutto. È un po' come, non so se vi ricordate, quando eravamo bambini, si giocava palla velenata. Palla velenata, si correva come dei dannati, c'era un battitore che cercava di colpirti con la palla e se ti colpiva dovevi fare la penitenza. e la penitenza consisteva nel stare in equilibrio, magari su un piede solo, e contare fino, mettiamo, a dieci. Ecco, il lutto è come se è un gioco del destino che ti tira addosso questa palla velenata e ti obbliga a fare la penitenza. E tu devi stare fermo per un po' di tempo, su un piede solo, senza nessun appiglio, a cercare di nuovo il tuo equilibrio, l'equilibrio interiore. Perché, vedete, secondo me, proprio la genesi del senso di smarrimento da cui poi il dolore è proprio il fatto che non abbiamo un appiglio. Nella nostra vita noi siamo abituati a pensare di stare sui nostri piedi, di appoggiare il nostro peso sui nostri piedi, ma in realtà noi siamo molto spesso, siamo appoggiati alle vite dei nostri cari, riempiamo la nostra vita con la vita dei nostri affetti, ci facciamo carico delle loro gioie, dei loro dolori. E questo, per carità, è bellissimo, ma quando poi questo appoggio ci viene a mancare, e beh, siamo fregati, cioè, lì poi cadi per terra. Nell'elaborazione del lutto il pianto è sacrosanto, lo dice anche la Kubler-Ross e fa parte di una sana elaborazione, però dice anche che ognuno ha i suoi tempi e dice anche che non c'è una correlazione tra la quantità di lacrime e l'amore che si ha per il trapassato. E quindi io voglio farvi una domanda che è volutamente provocatoria. se noi ci facciamo veramente un esame di coscienza, possiamo dire se a distanza di tempo piangiamo ancora disperatamente, senza reagire per la persona che è trapassata, oppure piangiamo perché noi non abbiamo più un appiglio nella nostra vita. Perché, vedete, perdere una persona cara, una persona importante ti obbliga a rimetterti al centro della tua vita e questa è una consapevolezza che fa molto paura perché significa sostanzialmente prendersi le proprie responsabilità, significa guardarsi dentro e significa crescere. Ecco che a mio modo di vedere anche una perdita tragica, anche un lutto tragico, comunque è una grande opportunità di crescita. Avrete notato che non uso mai il termine non dico mai perdere una persona cara ma sempre smarrire perché tra perdere e smarrire c'è una differenza, sono due sinonimi però hanno un significato rimandano a un significato subliminale diverso perché in perdere c'è questo senso della sconfitta questo senso della che non ci si può più fare niente come dire invece smarrire ha in sé il senso della temporaneità il senso del vabbè adesso non lo trovo ma prima o poi salterà fuori c'è una speranza c'è quantomeno una positività a cui io non voglio rinunciare e vi dico tutto questo col sorriso e con la consapevolezza di chi ci è passata perché io quella che vi ho raccontato è la mia storia la mia personale elaborazione del lutto cinque anni fa ho smarrito mia figlia Gaia l'hanno l'hanno trovata morta su una spiaggia in Brasile il giorno di Natale è stata uccisa non si sa da chi perché ma io sono fermamente convinta di aver smarrito Gaia non di averla persa al suo assassino non penso semplicemente molto semplicemente ecco la Gaia molto semplicemente io non penso a chi le ha fatto del male l'ho perdonato perché voglio trattenere nel mio cuore solo lei e la sua bellezza e mi piace pensare che lei sia qui con noi in questo momento in questo teatro per cui bisogna neanche che stia attenta a quello che dico se no ma io ho una zotta lassù e io vorrei farvi questo invito a chi magari si è imbattuto in questa esperienza io vorrei dire accettate il lutto come una grazia e non come una disgrazia e intendo non solo il lutto per morte il lutto anche inteso come perdita del lavoro come come trasferimento come qualunque evento della vita che ci obbliga a lasciare andare le nostre certezze per trovare la sicurezza dentro di noi non fuori dentro e poi io vorrei anche dirvi amateli amateli per quello che sono a prescindere dal lutto amate i vostri figli i vostri partner i vicini di casa la suocera il capo ufficio amateli per quello che sono e non per quello che voi vorreste che loro fossero perché nei loro difetti nei loro limiti sta la bellezza e quello è l'amore quello è l'amore con la maiuscola io Gaia l'ho apprezzata pienamente solo quando è morta lo so è bruttissimo da dirsi per una madre è una cosa bruttissima però lo dico con l'umiltà della persona che sono diventata grazie a lei io prima non vedevo la donna meravigliosa che lei era perché ero accecata dalle mie dai miei limiti le mie paure le mie proiezioni le aspettative e quindi non vedevo tutto il bello che c'era ho dovuto perdere il suo corpo ho dovuto smarrire il suo corpo per amare integralmente il suo spirito e non fate il mio stesso errore per favore grazie buon viaggio grazie